a chi la medico a grotta ai grottesi a tutti i grottesi non dico un'obvietà in primis a vincenzo il popolo ha vinto contro la plutocrazia la festa è iniziata solo quando il divario tra le due liste è diventato insormontabile ma la partita si era capito dalle prime schede che sarebbe andata a Marco Antonio Spera il leader della lista la rinascita è il nuovo sindaco di grotta minarda circa 400 i voti di scarto tra le due compagini un gap che si è allargato di ora in ora Spera già vice sindaco di Angelo Cobbino nella passata amministrazione insieme alle assessori Grillo e Pascucci aveva determinato il 24 febbraio scorso la caduta con due anni di anticipo proprio del governo Cobbino da subito aveva confermato di voler correre come sindaco con una squadra da lui stesso definita di coraggiosi oggi la vittoria schiacciante contro il suo competitor Vincenzo Barrasso che con la lista liberi e democratici nulla ha potuto si apre oggi una nuova pagina per grotta minarda riba di Tosfera ai suoi sostenitori poi è iniziata la festa Libertà! 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 Libertà!